Il Governo garantirà tutti i finanziamenti necessari per completare il potenziamento e il raddoppio della linea Bari-Matera e utilizzeremo parte del Fondo di Sviluppo e Coesione per l'acquisto di nuovi treni. Questa ferrovia è l'esempio di come si possa essere piccoli ma belli, moderni ed efficienti. Lo ha detto ieri sera il Ministro dei Trasporti Graziano del Rio visitando la stazione delle ferrovie Apolo-Lucane di Matera-Villalongo insieme al Presidente delle Fall Matteo Colamussi. Con loro le autorità locali, dal sindaco di Matera-De Ruggeri, all'assessore regionale al ramo Trasporti Nicola Benedetto fino all'onorevole del PD Mariantezza. Il Ministro si è complimentato con Matteo Colamussi e l'intero management delle ferrovie Apolo-Lucane per i nuovi e moderni servizi presenti in stazione. La stazione materana è stata infatti completamente ristrutturata con lavori interamente finanziati da fondi aziendali e terminati da pochi. Poi sul raddoppio selettivo della tratta che dovrebbe garantire il trasporto Matera-Bari sulle falli in poco più di un'ora. Per il raddoppio selettivo invece per la Bari-Matera sulle falli che tempi ci potrebbero essere? Noi abbiamo già anche qui dato disponibilità perché abbiamo messo 44 milioni con il fondo FSC ma perché stiamo anche procedendo ai raddoppi selettivi per raggiungere l'obiettivo che abbiamo detto già diverse volte di poter fare dall'aeroporto di Bari alla città di Matera in un'ora quindi essere molto competitivi e quindi gli investimenti ci sono. C'erano incertezze sul finanziamento del parco rotabile ma stasera ho cercato di spiegare che queste incertezze non ci sono più quindi la ragione di dato il via libera all'utilizzo dei fondi FSC anche per il materiale rotabile possiamo anche provare a accelerare un po' i lavori ma i tempi di realizzazione completa anche per la parte dei 44 milioni che abbiamo messo comunque hanno un orizzonte di 4-5 anni non di meno questo è chiaro. Quindi il raddoppio selettivo in 4-5 anni. Diciamo che la parte ultima che abbiamo dato a quei tempi altri altri interventi come voi sapete stanno già realizzando ci sono già i cantieri in corso e altri sono stati finiti. Sono convinto che la mission dei 4 anni sarà sarà abbattuta noi ci stiamo adoperando e ci auguriamo che anche qualche amministrazione comunale che ci crea qualche problema in più lo faccia per raggiungere l'obiettivo per il 2018. Il nostro obiettivo intanto è quello che entro il 2018 di percorrere Matera Bari in 57 minuti e quello di aumentare la capacità cresce la domanda e crescono e quindi c'è bisogno di una crescita di offerta di servizi rispetto alle problematiche stiamo incontrando troppi problemi con la burocrazia per avviare i cantieri. Le appalti sono stati tutti quanti determinati nel 2015 è passato un anno alcuni sono partiti alcuni sono finiti ma credo che c'è ancora molto altro da fare quindi chiediamo alle istituzioni di collaborare di più perché l'obiettivo non è soltanto della società ferrovie a Polo Lucane ma è un obiettivo di tutte le comunità e quindi è un obiettivo che ci deve vedere tutti quanti insieme protagonisti verso un miglioramento della qualità dei servizi da offrire a tutti.